Sono una parte perché sono le immagini a colori, le immagini in bianco e nero invece sono state girate da me in Super 8 e una piccola parte di immagini sono invece, diciamo sì, immagini trovate da me nei mercatini, eccetera e quindi ci sono due momenti in cui ho aggiunto io del Super 8, quindi si crea questa distanza tra l'immagine realizzata oggi in Super 8 e digitalizzata dall'archivio e l'immagine invece in pellicola negli anni 70 o precedente che è stata digitalizzata dall'archivio che è accessibile soltanto nella sua forma digitale, quindi un ulteriore passaggio del lavoro sarà proiettare il film in Super 8 e in digitale in contemporanea in modo tale da mettere in evidenza questa distanza. Oltre a queste fonti, che sono le fonti di immagini, ci sono anche delle fonti letterarie che ho preso di riferimento che è in particolare il testo di Aldo Braibanti, la statua.